Ciao Carly, sono Silvia, vengo da Bari, ho sentito praticamente la tua proposta, che comunque ti vuoi divertire. Se vieni qui con noi, con me e i miei amici, ti facciamo divertire fino a tardanotte, ti faccio conoscere tutti i locali possibili e ci divertiamo tutti insieme, ok? Va bene, ti saluto, ciao!